ciao a tutti io mi chiamo elisabetta ho 46 anni e vivo nella provincia di lucca vorrei consigliare a tutti quanti questo corso meraviglioso impara l'inglese con monica monica è un insegnante davvero eccezionale grazie alle lezioni video giornaliere alle dirette su facebook e al metodo innovativo di monica per me la conoscenza dell'inglese si è ampliata in modo facile e divertente quindi te che guardi questo video vorrei dire hai voglia di metterti in gioco cosa aspetti a imparare l'inglese have a good time bye bye